Accidenti! Quando fa così... Quando... Andiamo! Albertone Pancelli! Mamma mia di cattive... Deve avere veramente... Alla manetta! Andiamo! Guarda la differenza... Vediamo... Marcia con i numeri più piccoli... Il cambio è un po' indeciso tra una marcia più lunga e una più corta... Però non molla mica o niente... Siamo lì, dai! Una capriola di formica! Tomas Nironi alla manetta... Andiamo! 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 Stefano! Andiamo! 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 la pressione è arrivata mamma mia ragazzi tanta roba niente di fatto niente da fare non riusciamo guardate gli anelli foto 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 gli anelli quelli rimangono nella storia chi va forte andiamo mamma mia di cattiveria la pista finisce da in fondo sapienti arriva la bandiera verde la pantera rosa può andare quando vuole il simbilo sinistro dei due turbo arriva la bandiera verde andiamo e la marcia è lunga arriva la pressione e come in tanto è pronto San Piero abbiamo una pancata che ce l'avamo e l'altro è un po' e questi carri fanno così e dopo questi carri non vanno qui neanche a voler la palla del figlio la tortilla 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 Niente da fare Questa è la voce del Cursor 13 E arriva la bagniera verde Andiamo Claudione Lo mandiamo a Sudigiri Il buon faro italiano Mamma mia Paola vera Hai ragione Inghilterra E arriva la bagniera verde Andiamo Claudione La bandiera verde Andiamo Alberto Arriva la bandiera verde Andiamo Thomas E' un Genesis con due cinture l'imbrimento, senti la vita, arriva la bandiera verde, andiamo, appena, è così che vanno quelli che vanno forte, dai il gas e facci contare le viti della coppa dell'olio, Albertone, ho la mia, bloccaggio dentro, gas a busso, accidenti, andiamo, andiamo, accidenti, primo ritenimento di categoria, andiamo, e io prendo sulla catena, prendo io la catena, sì, 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 di tutto noi RP,